Conoscete la storia della principessa Issa? Nella mitologia era chiamata la Redentrice. Si narra che questa bambina avrebbe fermato la follia della guerra. Che avrebbe inaugurato una nuova era di pace e compassione. Mi è stata data memoria di un mondo che non vedrò mai. Fedeltà a un re che non posso servire. E amore per una bambina. Che non ho potuto salvare. Cosa pensi che vogliano? Tutto. L'ho trovata. La sfregiatrice. Sono figlia della guerra. Mi è stato insegnato che l'amore è debolezza. C'è una differenza tra giustizia e vendetta. C'è un prezzo per la tua ribellione. Un momento. Adoro questa parte. Tenetevi. Non voglio problemi. Non vogliamo crearne. Pronti? Noi due conosciamo la paura. Mostriamo che non abbiamo timore. Mostriamo che siamo più delle catene che ci legano. Il re è un uomo. E un uomo può fallire. Ma un mito è incrollabile. È giunto il momento. Per tutto ciò che amate. Proteggetevi a vicenda. Nessuna pietà. Chi di voi è disposto a morire per ciò in cui crediamo? La tua ribellione so'般ico. Grazie a tutti.